Casacca d'ordinanza dei Boston Celtics perché ragazzi, quando si battono i Lakers è sempre festa e bisogna celebrarla. Parlando delle cose che ci spettano, parlando di Juventus, ottima performance dei bianconeri all'Olimpico contro la Lazio, 2-0, due rigori battuti magistralmente da Leonardo Bonucci, è un successo questo che porta la Juve proprio ad agganciare i bianco celesti in classifica a quota 21 punti. Perché mi è piaciuta tanto la prestazione della Juve? Al di là del risultato perché quello conta, su quello ci basiamo e quello giudichiamo. Oggi ho avuto la sensazione, guardando il match, che anche se si fosse giocato per altri 100, 200, 300, 400 minuti, la Lazio non avrebbe mai segnato. La Juve, quando è in serata, la Juve della stagione corrente, quando è in serata, quando riesce a fare difesa posizionale, quando riesce ad approcciare nel modo migliore al match e riesce a ripartire, è una squadra che diventa molto pericolosa. E infatti oggi ha vinto su un campo estremamente complicato perché la Lazio è la stessa squadra che ha battuto l'Inter, la squadra che ha vinto contro la Roma e che proveniva comunque contro le grandi da un buon percorso di crescita. Quindi io credo che la performance di oggi sottolineo ulteriormente come questa sia la Juventus di questa stagione, come questa debba essere la Juventus che dovrà poi cercare realisticamente di ottenere un posto in Champions e di cercare di fare più strada possibile in tutte le competizioni. La Juve va in difficoltà quando? Quando deve creare? Quando ha il possesso del gioco, il pallino del gioco nelle sue mani? Quando deve creare con costanza e non può difendersi per ripartire? Ma d'altro canto sono le caratteristiche della Juve che sottolineano questo aspetto. Perché se vediamo la partita di oggi di Chiesa, secondo tempo è mostruoso. Si è acceso lui e la Juventus ha portato a casa agevolmente il match. Se analizziamo anche a targhe alterne le caratteristiche di Kulusevski, che fa una cosa buona e un'altra meno buona, in generale la Juve, anche con lo stesso Morata, è una squadra di contropiedisti, quadrato. È una squadra che se si difende bene con le linee corte e riesce a spondare, poi può fare parecchio male. A maggior ragione si trova squadre come la Lazio, che difendono, attaccandono, che quindi hanno sempre il baricentro molto alto a partire dalla prima linea. Quindi, semplicemente, oggi Max Allegri l'ha incartata a Maurizio Sari per caratteristiche e per canovaccio tattico. Lazio mai pericolosa. Io ricordo solamente due palle potenzialmente interessanti per i biancocelessi. La prima in avvio, con Lazzari sulla destra, che la mette in mezzo ma non trova nessuno, e poi la sponda del sergente Milinkovic-Salic, aperta parentesi, giocatorone, che non trova con i tempi giusti Murici. Quindi, due palle concesse, neanche nitide, perché non stiamo parlando di nitidissime occasioni da gol. Credo che, testimonio come la Juve oggi sia stata, molto sul pezzo. Bisogna arrabbiarsi, poi, perché se si vedono le partite contro il Sassuolo, contro il Verona, contro l'Empoli, poi vedi come la Juve riesce ad avere la meglio contro la Lazio, lo stesso Chelsea. Sono mondi differenti. Nella continuità, poi, c'è l'esito ad alta quota di un'annata calcistica. E infatti, al momento, la Juventus, attendendo poi i risultati delle altre, è al sesto posto, a quota 21 punti, appunto, come con la Lazio, ed è, se non erro, a quattro lunghezze dell'Atalanta, che ho già vinto agevolmente in casa contro lo Spezia. Queste saranno quelle che si giocheranno un posto alla prossima inizia della Champions League, ci aggiungo anche la Roma, perché, comunque, per blasone dell'allenatore e squadra, sarà lì. Però, avevo anche capito oggi, come tutto dipende dalla Juve, perché, a livello di organico, la Juve è superiore alla Lazio, superiore alla Roma, superiore anche all'Atalanta, ma la Dea ha esperienza, non che la Juventus non ce l'abbia, perché ha vinto 9 degli ultimi 10 campionati, però, quando ti devi focalizzare su un obiettivo differente, non è semplice. Un conto è lottare per il vertice, per il titolo, un altro, poi, per qualificarti a prossima inizia della Champions. Per questo io tengo sempre molto calda l'Atalanta, perché è una squadra che ha qualità, che cresce col trascorrere dei mesi e che sta lì. Infatti, si qualifica in Champions, se non mi ricordo quanti anni di fila, ma ormai è un'assoluta big del nostro campionato. Note negative di oggi, ma sarebbe, secondo me, sbagliato, soffermarsi poi magari sulla prestazione dei singoli. Sì, a me, personalmente, Luca Pellegrini, nel primo tempo, non è che sia piaciuto particolarmente, è leggermente meglio nella ripresa. A centrocampo, probabilmente, la Juve è andata un po' troppo di lotta, non ha gestito quella lucidità con cui avrebbe voluto gestire, magari, delle verticalizzazioni che avrebbe voluto spaccare ulteriormente il match, considerando le difficoltà di serata di Acerbi, che è stato estremamente impreciso. Però, mi piace premiare oggi tutto il canovaccio tattico, perché quando siamo negativi, ci mettiamo lì, puntiamo il dito contro tutti, secondo me, oggi questa è una performance che, a livello corale, è stata estremamente soddisfacente e, infatti, ha portato la Juventus a vincere per 2-0 sull'ossico campo della Lazio. Mi è piaciuto anche l'ingresso di Moise Ken. Quando un giocatore come Ken, con le sue potenzialità, con i suoi mezzi, entra con la giusta mentalità, è un cambio che si rivela un upgrade, che ti dà qualcosa, che ti dà freschezza, che ti dà riferimenti, che ti dà centimetri, magari anche il gol, perché Reina è stato bravo su Moise Ken, che si è presentato subito con un numero dei suoi. Quindi, bisogna avere pazienza con questo ragazzo, contestualizzarlo, caricarlo anche delle giuste aspettative, perché Moise Ken è stato preso per fare in modo che la distribuzione dei gol delle prime punte sia più omogenea, però il suo ingresso oggi è davvero positivo e quindi significa anche che ha recuperato dal punto di vista fisico. Ecco, la nota negativa è purtroppo l'infortunio di Danilo. Adesso cercheremo di capire, monitorategoal.com, il mio canale YouTube, cosa si sia fatto il brasiliano, che attorno al quarto d'ora è uscito in barella, quindi speriamo che non sia nulla di grave, però a caldo la sensazione è che sia qualcosa da monitorare concretamente, quindi lì tra l'altro la Juve poi cambia la partita, perché esce Danilo, entra Kulusevski, si cambia il sistema di gioco, si va più in ampiezza e più in velocità, aspettando meno la Lazio, leggermente meno, ma aggredendola con un po' più di velocità. E credo che questo abbia sorpreso molto Sarri, perché la Lazio è stata molto statica, Luiz Alberto impalpabile, l'unico che mi sembra che tra i bianco celesti abbia messo i puntini sulle I per fisicità, per qualità tecnica e anche personalità, mi sembra sia stato il sergente che lo ribadisco. Giocatore ono, ecco. Quanto farebbe comodo uno con Milinkovic e Sarri, c'è la Juventus? Tanto, ma farebbe comodo a parecchie squadre che vivono di alta quota. E' nostrana e europea. Nulla ragazzi, dai! Chi ti fa Juve, finalmente si può godere un bellissimo weekend. Chi ti fa Boston e Juve, si gode un weekend top, perché Battery Lakers, vincere contro la Lazio, non è roba di poco conto. Vediamo quali saranno i risultati delle dirette concorrenti, anche di Napoli e Milan, in queste ore, però serviva che la Juventus proponesse una performance simile, serviva soprattutto vincere per mettere un po' di pressione, rubare punti alla Lazio, serviva a darsi un segnale, serviva partire poi per Londra, con l'intenzione, però che si affronta una squadra fortissima che anche oggi ha vinto agevolmente e secondo me avrà pochi problemi a conquistare quest'anno la Premier League. Però la Juve, in relazione all'1-0 conquistato contro il Chelsea, deve cercare di fare, se vogliamo, una seconda impresa a St. Paul Bridge, avendo comunque a disposizione due risultati su tre, perché prendere il primato nel gruppo significerebbe trovare potenzialmente un ottavo più agevole. Poi, l'abbiamo visto recentemente, puoi beccare il Lione, puoi beccare il Porto e vai a casa lo stesso. Ma quello che conta, quello che conta è cercare di fare una performance anche bella a Londra. Dopodiché si penserà all'Atalanta, che sarà un altro scontro diretto contro una squadra che abbiamo adesso analizzata assieme. Insomma, ragazzi, scrivetemi la vostra analisi qua sotto. Chapeau a Leonardo Bonucci per come ha calciato i due rigori, chirurgico. Reina ha intuito l'angolo nel primo, ma non c'è arrivato mai nella vita. Nel secondo, Leo lo ha spiazzato. Abbiamo un bel rigorista che l'ha dimostrato anche in nazionali, saperli tirare. Perché non farli tirare a lui quello contro la Svizzera? Però, facile a parlare sempre dopo, ma credo che questo aspetto verrà tenuto adesso in caldo, anche caldo, da Roberto Mancini. Perché per un Giorginio che è entrato in crisi al dischetto, c'è un Bonucci invece in forte ascesa. E questa è anche un'altra bella soluzione per la Juve, che quindi sta creando un rigorista che li sa battere davvero bene e soprattutto quando contano. Un caro abbraccio. Un caro abbraccio.